Linda Caicedo è un attaccante classe 2005 colombiano cresciuta nel vivaglio del Deportivo Cali che ha fatto tutta quanta la trafila delle giovanili con la nazionale colombiana fino ad arrivare a disputare il mondiale femminile attualmente in svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. È una calciatrice fresca d'acquisto da parte del Real Madrid e quindi parliamo di altissimo livello nella Liga Femminile un numero 10 che può muoversi su tutto il versante d'attacco con una rapidità di base veramente alla Tabitha Chawinga una che ha bisogno del campo davanti per mangiarsi l'avversario andare in accelerazione poi con le sterzate nel breve la grande qualità che ha cambiare di fatto le partite con gol e assist può muoversi anche come detto sulla tre quarti da numero 10 per dare l'imbeccato. L'imbucata alle compagne in profondità è una giocatrice assolutamente associativa che quindi riesce a scambiare nello stretto con le compagne per poi andare a distribuire l'ultimo passaggio oppure proprio a costruire nella zona alta del campo l'azione deve crescere nel gioco aereo ovviamente ma anche e soprattutto in quella che è la partecipazione difensiva ma offensivamente parliamo di una calciatrice straordinaria.